Ragazzuoli siamo su Minecraft Java Edition che ci dice Scientific, la perla del giorno di Minecraft Java Edition è Scientific E a proposito di scientifico, oggi abbiamo fatto un test molto esotico nel nostro mondo in creativa per vedere se le tartarughe morissero oppure no all'interno di un acquario Senza avere l'ossigeno, perché abbiamo scoperto che purtroppo i delfini muoiono, le tartarughe no L'unica cosa è stranamente ferma, non è normale tutto ciò, sembra imbalsamata tipo Ho provato anche a spaccarli sopra, tutto bene E a tal proposito, ragazzi, siamo nella survival, stagione 2 ovviamente, oggi abbiamo fatto dei progressi mastodontici e stasera ne faremo altri Progressi che hanno principalmente a che fare con questo beacon e con il rimuovere blocchi, soprattutto di pietra e di sabbia Perché ora possiamo farlo con una velocità un pochettino più alta, non è male Allora, step numero 1 della serata ragazzi, mi serve un blocco di terra Uno numerico, perché devo chiudere un buco che ho fatto per fare una intro dove vi parlavo dell'acquario, dove vi parlavo del progetto E a proposito di acquario, abbiamo un solo mob Quindi stasera, oltre a fare tante belle cosine fondamentali E dobbiamo ridiscutere la terra con il muschio Andiamo a mettere anche un bel po' di pesciolini, andiamo a mettere un po' di cosine E vi ricordo, scelta vostra, molto intelligente, molto bella, mi è piaciuta I pesciolini e gli animali dentro l'acquario avranno i nomi degli abbonati Non metteremo i guardiani del tempio, perché se metto i guardiani del tempio mi uccidono gli squid di glow squid dei pesci Non è una buona idea Il pesce palla con sguardo inebetito a stile Magikarp sono io Vorrei che stanno già iniziando ad affibiarsi i pesciolini No, con calma vediamo, con calma vediamo E oltre a quello, come vi avevo detto Visto che questa costruzione è basata sullo stile artistico che si chiama Frutigeraero Abbiamo bisogno di aggiungere della natura E mi piacerebbe metterci degli animali qui E questi animali voglio che abbiano a che fare anche con le fence Quindi mi piacerebbe aggiungere delle fence qui Il problema è che aggiungere le fence non è semplice Perché abbiamo bisogno di un po' di legno e soprattutto dobbiamo decidere il blocco iniziale qui Quindi, ancora prima di iniziare qualsiasi cosa ragazzi Muschio o terra verde? La terra verde è così Ora abbiamo un riferimento visivo Il muschio non abbiamo un riferimento visivo È un verde un pochettino più chiaro Muschio o terra verde? Vince il muschio al 75% Perfetto ragazzi Temo che costruiremo la cosa in muschio allora Allora ragazzi, potrei aver leggermente esagerato con il bon meal Tanto che non so neanche dove metterlo Perché purtroppo mi ero portato i blocchi di osso Per far espandere il muschio Ci basterà metterlo qui Easy E far così Tutto intorno Avete ragione Il muschio è più bello Però sapete cos'è? Un ibrido tra muschio e terra? Potrebbe starci eh Un ibridino E la natura che sta nascendo È un bel po' rigogliosa Anche troppo rigogliosa per i miei gusti Sì, decisamente Però ha un po' perché Secondo me se è controllato e fatto un pochettino meglio Non è male Anche visto da fuori è carino Ci piace Metteremo anche gli alberi Metteremo anche i rampicanti Però la maggior parte di queste cose si potrebbero anche lasciare Per dare quel senso di verde Poi mi piacerebbe mettere delle pecorelle E mi piacerebbe ovviamente mettere anche qualche mucca Perché no? Magari delle pecorelle verdi Delle pecorelle bianche Che danno quei colori caratteristici Importanti Voglio posizionare le fence tutto intorno Così possiamo già spostarci gli animali E fare con calma tutto Mi dovete anche dare il vostro ok sulle fence Perché giustamente Io ho un'idea in testa Ma magari non la condividete Allora tecnicamente Poi magari mi sbaglio Se io faccio una cosa del genere Gli animali non possono passare O sì? Perché se possono passare La faccio semplicemente così Possono passare Prova Verifichiamo In teoria non dovrebbe poter uscire Da una cosa del genere Una pecora O sì? Proviamo con il grano Ok Confermo che non può uscire Io sì Lei no Se la spingessi Nemmeno Perfetto Una mucca invece Penso sia la stessa cosa in realtà No aspetta così Così sì che può uscire Ok Perfetto Non ho bisogno di metterle Tutte intorno allora Agli angoli che Non dico che stanno male Ma sicuramente si può mettere Più verde Diciamo Così siamo Molto meno limitati Non le mettiamo agli angoli Ah e poi per quanto riguarda Questa zona qui Oggi abbiamo testato una cosa Molto bella Che probabilmente Rifaremo anche stasera Adesso devo ritrovare il buco Questo qui Abbiamo provato a mettere Delle TNT in verticale Sottoterra Che arrivano fino al livello Cos'era Il livello Meno Due Una roba del genere E abbiamo constatato Che è un ottimo modo Per scavare Quindi stasera Mi sa che faremo Un bel po' di buchi Stile trivella Ci piazziamo dentro Una quantità di TNT Senza senso E bam Facciamo saltare in aria Tutto Ehi Ti ho visto che non hai Lasciato like al video E mi raccomando Ricordati di bere Due litri d'acqua al giorno Io ho appena finito i miei È importante per la tua salute Le fans le lascio alte uno Assolutamente sì Non le faccio più alte di uno Perché coprono la vista bro Mettiti davanti ad una fans alta uno Già zoomy non si vede più È lo stesso dall'altra parte Guarda quanto copre Copre tantissimo Ed è una Guarda se ne metto due Cioè cosa si vede Vedi attraverso un buchino No 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 Ci si passa dallo spazio Sì Io sì Gli animali no Che è un'ottima cosa Almeno io posso anche entrare qui Senza troppi problemi Poi sarà da capire la situazione Entrare o meno Perché la mia idea comunque È di arrivare sempre a questa piramide Utilizzando solo e soltanto Le litra o la barca A me piace troppo muovermi in barca E voglio fare degli ingressi Per la barca Dove ci saranno delle barche futuristiche Che entrano Da ciascuno dei lati Magari non da tutti e quattro Perché sennò perde un po' Quel senso di magia Però un paio di lati Con una barca futuristica Che entra nella piramide Ci saranno Sicuro che la grassa Cresca sotto le fence Certo Facciamo una cosa Finisco di fare la prima Finisco di fare il primo cerchio Con le fence E vi faccio vedere anche La cosa della TNT Così vi ho mostrato un po' Tutte le cose che voglio fare questa sera Che dobbiamo sistemare Poi ovviamente manca mettere un po' di fauna Dentro all'acquario Però al momento Facciamo questo Abbiamo finito il primo giro E non sembra male Soprattutto questa zona qua Mi piace davvero tanto Questo piccolo scorcio Che abbiamo iniziato a decorare Ve lo giuro Non so più dove mettere le cose Sono pieno fino al collo di oggetti Che non so dove posizionare Allora mi serve più che altro Un flint and steel Perché ho radunato Tutta la TNT che avevo Sono stato anche ancora Del tempo ragazzi A questa benedettissima farm Io ve lo giuro È impossibile È impossibile far ossidare i blocchi È impossibile Impossibile Forse si sono ossidati due blocchi Vagamente Mentre ero su qui a farmare la gunpowder Non ha senso Vediamo se mi ha farmato Altra gunpowder Nel frattempo Ma? What? Oh è velocissima sta farm Probabilmente funziona Mentre sono pure da un'altra parte Non soltanto lì sopra Perché è un po' strana come cosa Fortunatamente È bella forte E non solo Abbiamo preso anche un sacco di sabbia qui Quindi ci siamo craftati Una quantità di TNT Veramente interessante Abbiamo il piccone a disposizione Abbiamo un bellissimo Flint and Steel Abbiamo a disposizione Ace 2 Ci divertiamo ragazzi Tenetevi pronti Perché ci divertiamo Come ben sapete Sono Lollo Lacustre Il distruttore di mondi E d'altronde Non potevo che girare Con uno Shulker Box Pieno di TNT Vabbè Comunque non volevo fare questa entrata Così di scena Ma semplicemente farvi vedere Che ho un bel po' di TNT E non ho paura di usarla Ho paura di usarla vicino a questo Perché non voglio farlo saltare in aria Mi fa super comodo Quindi andrei più o meno Minimo da una distanza di sicurezza Che potrebbe essere questa qua Quindi da qui in giù scaviamo E ogni volta che scaviamo Devo cercare di arrivare Più o meno a livello 0 Quindi inizio a vedere la Deep Stone C'è dell'acqua Questo potrebbe essere un problema Ehm Sì Sì Queste caverne con dell'acqua Sono un po' un problema Ma noi ce ne sbattiamo altamente Vediamo cosa succede Allora questa è un po' una run di prova Voglio vedere cosa succede Quando esplode con l'acqua Wow Quello è andato inspiegabilmente in alto Esplode comunque tutto Si blocca con l'acqua No Si blocca con l'acqua Questo è un problema Richiederà del lavoro extra Per il momento non ce ne preoccupiamo Ha comunque fatto un gran danno E è di un preciso spaventoso È comodissima come cosa Servono delle torce però O qualcosa che illumini comunque Che si vede ben poco in queste cavernozze Allora facciamo una cosa Voglio vedere se riesco a bloccare la TNT Dov'è? Se l'accendo e volo via velocissimo Esatto Non dovrebbe esplodere No ok forse esplosa No mi sa che era esplosa la TNT Però ha fatto un ottimo lavoro Vedete è molto molto precisa questa cosa Con la TNT mi piace Potrebbe essere il nostro modo di scavare Effettivamente Il problema è che c'è un sacco di acqua In ste cacchio di caverne Giustamente essendo sotto l'oceano Che cosa mi aspettavo? E non acqua Mamma mia Sono stato fortunato che c'è una zona là Dove non ce n'è molta di acqua Me l'ero beccata Vi dirò la verità Mi sa che questo Questo carbone Me lo porto a casa Perché è un po' impoverito dal carbone Anche questo Ok Qui non sembrerebbe esserci acqua Perfetto Potrebbe essere questa la zona priva di acqua Porca Che spettacolo Che spettacolo Ho paura di aver sicuramente fatto saltare in aria qualche diamante Ma Prova a fare un 2x2 Mmm Mmm Hai la mia attenzione Però lo devo fare più verso il centro Perché Ve lo stai dicendo adesso Che siamo vicini al bordo Mmm Allora No Aspè Questo è un bene Perché qui sotto possono spawnare i glow squid È un male perché Mamma mia raga Avete idea di cosa significa asciugare tutta questa No Mi viene già male pensarci Quindi non ci penseremo Allora lo facciamo qua In mezzo alla diorite che odio a morte Sembra cacca di gabbiano questo blocco Però sono riuscito anche ad utilizzarlo in alcune costruzioni In modo molto carino 6x6 Ok ragazzi State esagerando Sta già diventando Va bene 104x104 Lo sapevo 300x300 Penso che far saltarinare tutta la mia costruzione Non sia una buona idea 69x69 Non è una buona idea bro Eh mi sa che qua Tocca fargli esplodere di notte Devo stare attento perché qui Buon anno Normalissimo Capodanno A Napoli ragazzi Andiamo a dormire Che non si vede niente con la pioggia Proprio un brutto presentimento Questo l'ho sentito dentro ragazzi No vabbè ma Ma è OP Abbiamo trovato il modo per scavare fino in fondo Ma che cacchio me ne frega di scavare a mano ragazzi Raga funziona meglio di una trivella sta cosa D'altronde è TNT Cioè fatta proprio per far scavare le miniere Oh è vero Non ci ho pensato Effettivamente potevo convertire tutto in muschio E poi scavare Perché se converti tutto in muschio Puoi spaccare velocissimo Però secondo me il modo migliore È con la TNT comunque Perché io ho scavato una volta un chunk a mano E so cosa significa E so cosa significa Trasformarlo in muschio E ti dico che secondo me Non è il modo più veloce Bene Adesso torniamo a fare le nostre bellissime cose E poi dopo mettiamo un po' di fauna E flora dentro al nostro acquario La pioggia Che bello Da un lato è rilassante E dall'altro lato mi triggera la pioggia di Minecraft Sei in casetta Che vedi fuori la pioggerellina È come nella vita reale A casa la pioggia è bellissima Quando sei in giro Sei tipo Mmm Tranne in estate Che magari ti rinfresca Durante il resto dell'anno Dà un po' fastidio la pioggia dell'ina Ma adesso Facciamo una cosa divertente ragazzi Prendiamo un secchio E andiamo a catturare qualche pesciozzo Mi hanno detto dalla regia Che se tu catturi un pesce A parte fare l'achievement Tactical Fishing Che non avevo mai fatto Interessante E lo metti dentro alla Anvil Quando tu rinomini il pesce dentro alla Anvil Automaticamente Ti dovrebbe dare il nome al pesce Di conseguenza non despona Testiamolo Questo pesce Si chiamerà Giovanni Con il coricino Se io ho un secchio con un pesce Che si chiama Giovanni E poi lo piazzo Il pesce si chiama Giovanni O semplicemente non despona Nooo Ma che figata Il pesciolino al nome Che gli hai dato Oddio Questo Questa è una gran cosa Perché per tutti i pesciolini Non possiamo non craftare le name tag Oh aspetta No No Non lo posso catturare vero Questi desponano per forza Aspetta Perché c'è anche un mob però Tu non dovresti poter spawnare Qui dentro Bene Andiamo a catturare qualche pesciozzo Così li possiamo mettere dentro Tanto abbiamo Un botto di ferro a disposizione Perché abbiamo fatto la farm Quindi possiamo craftare Tutte le anvil che vogliamo Abbiamo Land a disposizione Per fare esperienza infinita E ci mancano solo i pesci Dovrei vedere anche se ho Delle name tag Glowcustre Glowcustre mi sembra Per ora la migliore Octocustre Lo terrei più Non per un Glowsquid Glowcustre Ok vedo che Glowcustre mi piace Oh è Giovanni Però abbiamo anche Billy Abbiamo Billy Giovanni E se non sbaglio No non è È Dufur È Dufur È lui Glowcustre Ce l'abbiamo Abbiamo il primo Glowsquid Che bello Che bello ragazzi Per chi non lo sapesse È il mio mob preferito È inutile Lo so Non ha veramente senso Però è bellissimo Non ce la faccio 13 secchi Vai Ok innanzitutto Becchiamo il banco di pesci Abbiamo avvistato Primo preso Secondo preso Guarda come scappano Guarda lì Non pensare di scapparmi Così facilmente bro Avvistato E li vedo un altro banco Ma sono tutti uguali Sti cacchio di pesci Devo andare Veramente dove ci sono i coralli Perché questi Sono incredibili Vedo anche un Drowned Che mi sta inseguendo Che prova a proteggere Il banco di pesci Non riuscirà a fermarmi Agli ultimi E Vieni qui Vieni qui maledetto Preso Ok Abbiamo un nome per un pesce Gabio Gabio Lello Lacustre Sembra quasi un meme Giorgi Ne dedichiamo uno a Luz Dai ragazzi Voglio vedere i vostri nickname in chat Che ha il nickname più bello Lo mettiamo Lello Lacustre Ne vuole due Va bene Tricheko Mi piace Anche i vostri nickname Senza problemi ragazzi Sto cercando nomi per i pesci Qua ce ne abbiamo veramente Dall'infinito Pucci08 Mi piace bro Mi piace Carino Pucci Vabbè Togliamo lì 08 Pucci mi piace Via degli stempiati Va bene bro Ho capito Va bene Lo chiamiamo via degli stempiati Ti 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 accontento Fra Zirbe Custre Allora iniziamo a popolare questo acquario Come si deve Ah Che bello Però temo che adesso dovremo andargli a prendere ragazzi In un bioma un po' più bello Perché questi pesci sono carini Assolutamente sì Ma i pesci tropicali sono tutt'altro vibe Zirbe Custre Lello E via degli stempiati Perfetto Guardate che carini Che stanno iniziando ad ambientarsi nell'acquario Fanno amicizia Questa idea è bellissima di mettere i vostri nomi Ve lo giuro è troppo bella Questo è il bioma dei coralli ma senza coralli mi sa No aspetta perché sto pesce stava bruciando Lo stava bruciando è bellissimo Vieni qui Vieni qui maledetto Stranissimo Questo è nuovo mi piace Venite qua maledetti Voglio quattro di voi almeno nel mio acquario Anche perché ci sono 64.000 specie di pesci Quindi Cioè non li prenderò tutti Prendiamo magari quelli più belli che troviamo in giro O le più variegate specie Su minecraft 64.000 specie di pesci tropicali Tra le varie sfumature I vari colori È un po' come Spinda Non so se conosci il pokemon Mai Mai visto sto pesce da quando ho iniziato a giocare a minecraft Questo è bellissimo Questo è il mio preferito Ricordatemi che il terzo nell'inventario è il pesce più bello Lo diamo ad una persona importante Bellissimo I pesci sono stupendi comunque Stiamo trovando delle specie interessanti Coralli 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 È piccola la zona di coralli Mi piace come qui In mezzo al nulla ci siano due deserti del villaggio Vicino Ai coralli Non ha particolare No vabbè in realtà ha senso Vediamo se riesco a trovare una piramide Mi piacere Tre villaggi No vabbè I deserti del villaggio sono molto belli Personalmente parlando Però tre villaggi sono insane Guarda qua Guarda qua cosa abbiamo Ma che cacchio è Oh ve lo giuro Sto trovando delle cose che non ho mai visto su minecraft Magari avessi trovato una cosa così in natura Quanto tempo ho risparmiato a scavare Lo devo fare a mano Bello 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 Facciamo Drew Poi c'era Giorgi Giulietta e Spandurio per il secondo mese Guardate che carini Con tutti i vostri nomi Abbiamo sfondato due Anvil già Siete incredibili Leutum e Nico Ci sta a dedicarne uno a Leutum e Nico Abbiamo gli ultimi cinque No abbiamo Michele Quindi uno è già andato Svegliati Guardalo Ti ho appena dedicato un pesce nel mio acquario Senza che tu fossi live E mi viene a dire svegliati Perché sto portando avanti una lotta contro di te Contro gli Eutum No 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 Leutum Questo io non lo accetto bro Questo io non lo sto accettando bro Non lo stiamo accettando Non è scampo bro Come i pesci E all'alba del 1 e un quarto Andiamo a posizionare l'ultimo pesce della serata Guardate ne abbiamo messi tantissimi dentro l'acquario Piano piano Abbiamo anche il nostro glow squid lì sotto Abbiamo il nostro squid qui Un calma lo riempiremo tutto Sarà forse Forse potrebbe essere la cosa più difficile da fare Non ci ho pensato D'Acustri Io vi ringrazio tantissimo della visione Come al solito Se volete vedere altri miei due video Io ve li lascio qui E noi ci vediamo al prossimo Let's go Let's go Let's go Let's go